a metterla qua solamente che solamente ora sono riuscito a mettere un attimo apposti i fili che cazzo è sta roba era una roba strana madonna me sta squilla il telefono non a me richiamerà non chiamerà no cazzo è bianco 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 non rispondere l'app mi faccio io andornello cinque volte tarlo terlo tirlo torlo turlo cinque volte sì e combattia cinque volte di fila quindi tarlo tirlo torlo turlo tarlo terlo tirlo e tirlo torlo no in ordine ma come cazzo se fa ma sta rendendo bene tarlo tirlo torlo turlo arlo per lo tiro torno turlo tarlo terrò tirlo torno turlo arlo terrò tirlo torno turlo parla per lo tiro torno si chiama il bianco dell'uovo albume che ti rompo il culo in un modo che tu non è camelo che ti piace ok berserker lecce narcos bandit avete appena preso un worm ciao power game sparare dal veicolo curiosità per power game aver sparato dal veicolo si 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 fagliato e poi vero però giusto conferma te perfetto si è stato convocato oggi che cosa faccio più grazie ce la faccio grazie ai coca fai porto io fuori l'android e dalla centrale grazie e mezzogiorno mezzogiorno è gentilissimo mi potrebbe offrire un po d'acqua a gente mi sente mi dica allora legato più alto giusto ma sono il ragazzo della signorina no signorina non le conviene si fidi che non le conviene va bene va bene va bene signorina però che cazzo ma perché deve sempre complicato tutto ti devi stare zitto ti devi girare ti devi stare zitto va bene va bene avevamo detto che non è che palle però non doveva andare cioè non doveva andare proprio così però è fatto bene e ti stavano puntate l'ignoranza quel pugno fa tutto bene da di qua non a dirlo 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 lì sì mamma mia fate schifo a tutti dai facciamo arrivare a questi qua facciamo salta dalle parfalle madonna ragazza di ammazza tutti ammazza tutto io ragazzi stasera stasera non voglio parlare più con voi ragazzi scappiamoci non è niente legato ma andiamoci da qui questi vengono già saltano che fare le cose importanti medici da un'altra parte porco il dio mi stai facendo incazzare rotto il cazzo andiamo c'è no basta già c'è più ragazzi io hanno detto una cosa brutta non so se si sentita nei due non si è sentita non si è sentita di social margama come io che ho fatto perché mi dovete andiamoci pagherà lui per lui allora facciamo così facciamo che si aspetta ma come pagherà mi trova questo piccione salve buonasera sono il signor piccione lei è ma come piccione è certo ti piace il piccione perché a te non piace al piccione con quella faccia secondo messi io qua faccia fra te c'hai 80 anni no 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 manco corcialista di sarsa più mario 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 intervieni mario mario e sta ferma in casa faccio una prova ringrazio non faccio perché ti problemi la porti la vado a mezza ok metta allora appena inizio dai prova in trapoggio inizio dai prova in trapoggio oh la quanti sono siamo a mario ma mi spieghi che cosa sta succedendo mi spieghi sindaco ci saranno persone che vorranno uccidermi quindi mi servono i clone ma perciò loro sono cloni tuoi sì ma questi cloni tuoi pensano come ti e hanno la tua stessa personalità e la tua stessa intelligenza no ho preso il corpo di un killer quindi un po insomma a perciò tente vivi maestro shanghai da prendo in prestito ma ma fai il culo drogato vieni qua ma come te lo chiamina ma quello c'ha la pistola ma che consegui ma che è una comica comunque mario sta fuori testa ma è una spada si lo sta fin seguendo con la spada bianco è un auto è un auto custom fermiamoli entrambi signori ma che sta si fermi si fermi si fermi accosti il veicolo accosti 10 20 del 10 80 autostrada 534 dura guarda 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 Grazie.